Un saluto dalla redazione del Gireasi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Il segretario di Stato americano Rex Tillerson annuncerà oggi che nel futuro della Siria non c'è posto per Bashar al-Assad. Lo riferisce l'emittente Panarab al-Arabia citando fonti ufficiali di Washington. Intanto rischiano di naufragare i tentativi di dialogo in corso a Ginevra tra il regime e i ribelli. Secondo il portavoce dell'opposizione siriana, i delegati di Damasco hanno detto all'inviato delle Nazioni Unite Staffan de Mistura di non avere intenzione di proseguire i negoziati. Allarme dei servizi segreti americani sulla Corea del Nord. Il paese sarebbe pronto a utilizzare armi biologiche. Il regime di Kim Jong-un avrebbe sperimentato ultimamente la produzione di ordini con i batteri di antrace, colera e peste. Lo riporta oggi un articolo del quotidiano Washington Post. Passiamo alla politica italiana. Al via al Senato l'esame della legge sul biotestamento. Oltre 3.000 agli emendamenti presentati, di cui almeno 170 sono risultati improponibili. Gaetano Quagliarello ha chiesto alla Presidenza di effettuare 15 voti segreti sul provvedimento. Il voto dell'Aula potrebbe quindi slittare a dopo domani. E veniamo all'ultima notizia. 2 euro per entrare al Pantheon dal 2 maggio 2018. Il ticket servirà per la manutenzione, la tutela e la sicurezza della struttura. L'accesso comunque sarà libero per le attività religiose. L'intesa è stata siglata tra il governo e il vicariato di Roma, nonostante la contrarietà del comune della capitale. E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.